buongiorno signori buongiorno siamo tornati di nuovo con il nostro caro vlad e sto... che sto vincendo la guerra? qua sopra sto vincendo la guerra? ah si stiamo picchiando tremor che tanto sei già ripreso dagli ultimi cifoni nel muso che gli erano stati dati sta solo che bene crepare quelli e poi siamo scesi in guerra con la germania per qualche motivo idiota qualcuno dei nostri parenti sono sicuro che questi 4.000 uomini li fermeremo a pugni ma comunque facciamo che la storia va avanti per adesso chiudiamo una guerra prima di tuffarci in un'altra la mia masquerade fa totalmente cagare perché era exposure 3 la mia masquerade stai prendendo in giro? paghiamo 2.20 va bene paghiamo 2.20 abbiamo coverato un po' la nostra masquerade non mi ricordo perché era così alta zero proprio fatto stai che abbiamo vinto e gg poi per piacere chiuderla grandissimo guarda il concilofascist che si è pigliato adesso noi poi piglieremo questo e lo chiudiamo dentro il concilofascist non va più a nessuna parte la mia voglia di andare a combattere in germania è poca ma vedo che hanno dei buoni numeri quindi tecnicamente quello che ho qua come esercito che non mi pare sia messo troppo male possiamo anche mandarlo oh mio dio però per arrivare fin là è veramente il cancro allora proviamo a passare ci sarà una campagna che probabilmente non vi faccio vedere questa qua o non lo so adesso vedo un attimino come si mette la vediamo sprazzi cerco semplicemente di andare a toccare di arrivare fino alla capitale è come bridge of the masquerade cos'è questa cosa sofia ha visto florescu violare il silenzio del sangue rivelandosi un vampiro la masquerade è stata rotta cosa dobbiamo farne di sofia o no stumace non possiamo ciucciare farcela alla fin fine a me serve del sangue dream sofia vai spero che sta cosa qua abbia funzionato va bene lo vedremo dopo questo evento qua e per invece florescu che ha violato il silenzio cosa dobbiamo fare florescu sei un mio vassallo il mio vassallo è campione non sei neanche un gran campione però sei in guerra contro contro di lui lo perdoniamo in cambio di un favore ora possiamo cosa possiamo fare this is not forgiven ok ok per favore la tizia si spie perché perché ci fa comodo che rompere il cazzo la tizia non sapremo mai sofia si chiamava sono lì per lì dall'impazzire io con questa faccenda qua vabbè vedremo fra un po' ci sono novità direi che il nostro esercito la sopra è stato totalmente eliminato noi andiamo avanti a fare i nostri qua sotto se avesse un attimo di bols mia figlia verrebbe da me invece no decide di andare là in cima a crepare come gli altri stronzi ora noi speriamo di avere abbastanza visione anche data da nostra figlia per evitare la loro armata principale mi spostrò verso sud per arrivare a capitale non voglio farmi oh beh c'è andata di culo mia figlia decide di andare a morire così attenzione no ok e buona fortuna comunque ne sono un sacco di castelli in quel posto qua che non è proprio il massimo anche perché non è che sono proprio veloce a conquistarli e l'esercito mia figlia se ne va e quelli là stanno venendo a rompere le palle a me sicuro come la fame prendiamo questo e ci spostiamo il santo Luciano è morto ed era mio amico avrei dovuto trasformarlo in un goal diventiamo signori irritable se qualcuno ci viene vicino si becca un cazzo di pugno nel muso purtroppo la vita è così sai che roba così così non posso dargli un pugno nel muso lui direttamente così siamo a posto sarebbe la cosa più bella Dio vuole che anche la pomerania è scesa in guerra contro il nostro caro nemico e nonostante io stia conquistando tutto il sud della Germania qua e stia andando anche per la capitale a breve non riusciamo a vincere perché i nostri alleati si fanno continuamente tra cui mia figlia ammazzare come degli stronzi ma la pomerania che ha un sacco di uomini invece takes no shit from Germania ora io aspetto un attimino di rimpolpare due uomini sperando che non stia arrivando per me magari sarebbe il caso di rimpolparli in una zona più sicura cioè qui sotto e poi vado per la capitale non vedo il loro esercito il chimico eh vabbè però pomerania ritardate ed è stacca come se ci fossero domani niente noi andiamo per la Germania allora a questo punto per la capitale e speriamo che questo ci dia oh siamo al 90% se prendo la capitale forse è fatta anche se prendono qualcos'altro vuoi vedere che la vinciamo Cristo non so da quanto tempo hai da quanto sono in guerra 4 anni di guerra sto facendo dovrebbe ringraziarmi le palle questo qua è un re vecchio e inutile vediamo vediamo forse fino a è veramente meglio del previsto non pensavo è andata bene allora ci arriva anche un omen cioè ci viene ci arriva anche notizia molto degli umani c'è stato un grosso terremoto che ha distrutto la città di Adana più di 60.000 andred sono 6.000 andred sono centinaia quindi 60.000 mortal sono stati crashati schiacciati fino alla morte tutte le costruzioni sono collassate e noi abbiamo vinto guadagno 30 di fame di fama bene bene ora che sono a corte finalmente posso tirare un pugno a qualcuno per insacchiamo chiunque chi sei te ti insulto devo devo essere meno stressato stai buono ti va bene ok almeno non sono più overwhelmed by the stress ti va bene che e così vediamo se riesco a scusami mi riesco a mio vassallo ed è umano lol ah perché è nella città lì sotto è in più di una carezzatina il cane ecco qua finalmente così mi sono tolto un po' di stress di dosso poi facciamo girare la rotola di pali su qualcun altro mia figlia è il mio nuovo player air questa cosa qua del layer deve finire ce la continuo a svizzare ogni 5 secondi è uno spam di messaggi su layer mi sa che è la mod col fatto che siamo vampiri e i voti continuano a cambiare destra manca non lo so però veramente che stress che visto è uno spam vediamo se riusciamo a migliare la nostra capitale 495 fra poco riusciremo voglio salire che almeno cioè dobbiamo investire su giurgiu allora non posso farlo prima anche i battlements che stiamo ancora ricercando però a questo punto posso fare survey your capital che dice qualche volta è meglio fare un giro te stesso per la città e vediamo se riusciamo a capire cosa si può migliorare non è scorta vogliamo uscire la sera a cena no sei consapevole che anche se essere a livello nominale il tuo dominio ci sono pericoli che vanno in giro insomma per le strade visto che stai preparando la tua visita della capitale stai chiedendo se forse bisogna portarsi dietro una scorta ovviamente non vuoi far vedere che sembra che hai paura di andare in giro sono pronto ad andare nella notte ma la notte non è eterna purtroppo devi scegliere che parte della città ispezionare stanotte ovviamente ci sono differenti opportunità e rischi in ognuna di queste vediamo vediamo la mia scelta è limitata ai posti dove ho qualcosa da fare ah hai capito dipende dalle costruzioni che ho dio santo voglio vedere la mia capitale che ho nella mia capitale se io avessi fatto altre costruzioni avrei altre scelte siccome io ho il clero qua posso andare a vedere che cazzo fanno tra l'altro ma perché non potevo aumentare il clero a livello 2? domanda perché lo sviluppo non è abbastanza buono ok andiamo a vedere il clero perché magari a livello 2 scusate ma non riesco a vedere a livello 2 mi si abbassa il debuff di merda infatti infatti mi aumenta la popolare opinion andiamo a vedere la chiesa cosa sta facendo il clero? ha senso allora uomini di fede il clero è forse la parte più difficile dei mortali da tenere sotto controllo da influenzare ha bisogno solo che uno dei suoi membri abbia una fede forte per mandare a puttane tutta l'operazione e stanotte si è stato informato che c'è un preacher un divulgatore da fede che sta creando dei problemi che sta facendo dei comizi la sfida tribe contro i mostri e il diavolo può essere un bel problema vediamo ma se lo rimuoviamo di forza potrebbe avere altre conseguenze no io penso che non ci sia nessuna conseguenza development grow più 0,1 cazzo e a me sarebbe proprio questo relax control perdevo controllo ma aumentavo lo sviluppo però non posso prendere 25 di stress perché mi rimanderebbe no un cazzo sapete che roba mi si torcerà contro a me serve quello sviluppo lì quindi non sarà un problema vero però andiamo avanti così dopo il piccolo giro per la città ritorno senza aver avuto problemi la notte bla 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 adesso perdo un po' di stress quindi tutto sommato quello 0,1% di sviluppo in più visto che non abbiamo l'opzione di farlo tramite qualche cazzo di motivo perché siamo vampiri di giorno non si può uscire ad andare negli uffizi e quindi è così generale capito qua si poteva magari fare chi è che avrò mai cliccato che doveva essere no scusate non voglio mangiare vabbè vabbè comunque questo se voglio coprire la maschera vedete sono altri 2,60 cover up cover up voglio sapere niente vai siamo full sangue full masquerade nessuno sa un cazzo di noi è arrivato il momento di picchiare a tremere vero? secondo me è un evergreen your claim oh io ho dei claim là in alto? questi claim ascolta ma per un ducato la sotto abbiamo perso lesser poland oh mi stai dicendo mi stai dicendo che non posso andare a prendermi tutto quel ducato ah beh è già in guerra per questo tra l'altro contro chi? contro la lesser poland l'avevo letto a me della lesser poland frega fino a pagina zero vorrei capire come muovermi adesso un attimino e poi vi dico no vedi che ce l'abbiamo io sono solo i menet arms andiamo a prenderci un gvar oh la mia dinastia è conosciuta un po' ovunque dovrei riuscire a spendere un po' di prestigio per riuscire a insomma a rientrare un pochino dei costi però sti cazzo andiamo avanti lì e fino speriamo che questo sviluppo in più mi ripaghi è arrivato l'inverno siamo vampiri non dovrebbe fregarci non cazzo l'inverno tra l'altro invece un po' di attrisce non ce lo dà lo stesso vedo che anche Boleslaus qua non è la mia altizia che ho fatto io che problemi avevo adesso è diventato così l'ho fatto tral vedete a più 80 più 45 ma comunque mi odia un cifro perché volevo almeno 150 il sit nel console io vorrei veramente degli uomini fedeli degli uomini dei ghoul fedeli a corta chiacchia oddio si oddio si ha perso anche l'ultimo paese che ha non è più nessuno questo stronzo madonna mia ho la vendetta è arrivata questo è il karma signori questo è il karma mi sono tolto una spina nel fianco mio santo ah ma non ti perdo d'occhio ti tengo lì bello bello meno 73 ma finalmente non sei più una spina nel mio fianco oddio mio ragazzi non sapete che bello ora potrò rompere il cazzo e posso anche dare al mio alleato cioè al mio vecchio amico il mio ghoul questo qua oh mi piace anche questa beh a fin fine è stato ricompensato ora cambi religione vediamo non cambia religione vero sì beato sia il potere oggi oggi la giornata è cambiata da così a così ci siamo fatti fuori dalle palle il tizio veramente giuro oh non dico altro abbiamo già goduto abbastanza non voglio chiamare a live to work qua è già fatto guarda qua che schifo andiamo avanti dio che bello tremere che mi chiede la pace bianca è una delle cose più belle oggi deve essere una giornata positiva in qualche maniera cioè o in real life appena esco di casa passo in camion e mi stira o se no sta andando tutto bene a secret exposed ma non c'entro io ci sono cose più importanti da fare esatto io che cazzo c'entro non mi interessa ho la mia la mia cosa lì la mia guardia ha finito di situare le situe andiamo a situare altre situe io sto cercando sto cercando di mantenere un po' di controllo un po' in linea generale non che mi interessi troppo sui miei vassalli ma la reconquista qui tra l'altro passiamo l'uomo qua mi ha usato dall'inizio lui è mia figlia lui è mia figlia sono sempre dietro a tirarmi in guerra con qualcuno all'implacabile Vladimir Rustovich ti chiamo il numero dell'alleanza vecchio ma cioè veramente sei dietro a chiamarmi sempre bellissima barba amico che mento sburgico ha volverden sapete che l'ho già sentito sto volverden non so da qualche parte grandissimo mento sburgico contro chi stiamo andando a scontrarci contro gente che ha un quantitino di uomini eccezionale ma anche tu le hai va bene accetto bene o male io sono sempre in guerra fate vobis non saprei cosa dire si dai andiamo a acciugare sull'aglio anche quel pezzettino lì oh guarda questi qua hanno tirato su una bella armata però non sono contro di me in verità sono tipo i polacchi o qualcuno lì non che mi interessa prendo questo prendo quello tutto nostro tutto nostro cosa andiamo andiamo a fare passaggio col cane walking the dog for 10 years felix andiamo a passaggiare col cane best day of my life questo tanto però l'altra guerra chi è che vuole non me ne frega niente quanti tanto l'altra guerra siamo almeno 32% on halt ahhh ahhh chifo no non c'entro niente dai madonna mi è morto pure l'altro rivale è una maledizione è morto come? cancro Gnari questo è il karma cioè veramente vi beccate tutto il karma che avete seminato a rompermi le palle dall'inizio del gioco questa puntata qua non so che nome dagli ma è tipo l'espiazione la sacra ci penso a Bolesaus a metterti a posto no Bolesaus non è abbastanza forte ci penso io a metterti a posto a te cos'è che hai tra l'altro sei un deviato non so bene cosa voglio dire ma ti strappo le carni di assenato te ecco dopo vediamo cosa farne di te a questo punto sapete che non so dov'è la casa di Tremere la capitale secondo me l'ha spostata in culo il lupi avrà tipo una regione da qualche parte perché non la vedo io quindi andiamo avanti a vabbè che non manca tanto andiamo avanti a prenderci questa cosa qua e poi chiudiamola qua e poi mando ste truppe in Germania non fare un cazzo perché col posto lì è molto piccolo e lui le truppe ce le ha lì e tu hai già perso tutti i soldati lo so che lui vorrebbe il mio esercito per intero andiamo all'esercito per intero l'assidio è quasi finito non lo so ho ho ereditato una baronia perfetto abbiamo preso anche questa Bolesaus puoi fare qualcosa a riguardo Bolesaus fai cagare ci penso io chiediamo pace a tremere che non frega niente a nessuno riportiamo un attimo a casa questi qua per vedere cosa fare guardate come ci siamo espansi abbiamo ovviamente nella pancia questa situazione qua che è poi la cosa principale di cui dobbiamo occuparci cioè farlo sparire per togliere l'alleanza e poi non so attaccare o andrebbe inglobato andrebbe inglobato in fact dovrei forse svegliarlo iniziamo a svegliarlo iniziamo a cercare prima con la diplomazia e poi con altri fatti di sistemarlo un pochino detto ciò probabilmente interverremo sì in quella guerra là in alto anche se sono veramente tanti faccia da culo hai eh ti ho pestato l'ho pestata per bene il dannato di tremere ah qua eccolo qua anche dove si è nascosto guardate qua in cima al niente passavo andremo a stanarlo ma per questa puntata direi che è tutto signori vediamo nella prossima come riusciamo a gestire facendo a dar via anche questi fifs che ho guadagnato tre in più non servono a nulla al momento vi saluto che è tutto che è tutto che è tutto